Da quando dal finale della prima stagione di Bad Batch era stato rivelato che Omega era effettivamente più vecchia degli altri cloni, molti fan hanno autorizzato che lei fosse così speciale perché ha l'invecchiamento rallentato rispetto a tutti gli altri cloni, inclusi quelli dalla Bad Batch. Questa è l'unica spiegazione plausibile al perché quando lei era già nata li ha visti nascere. Altri speculavano che fosse speciale perché è l'unica clone sensibile alla forza, cosa che si è speculata ancora di più guardando la puntata in cui si connetteva con Ganji all'albero. Ma in realtà presumibilmente, come abbiamo saputo, quella connessione non è dovuta alla forza, ma è una connessione che sviluppano gli uochi e che sicuramente Ganji ha trasmesso ad Omega. E questa teoria si è ingigantita ancora di più quando nell'ultima due puntata l'abbiamo vista meditare e lei stessa conferma che le è stato insegnato da Ganji. Io personalmente penso che dato che finora non abbiamo avuto una prova effettiva che lei fosse sensibile alla forza, la vera e unica teoria che per me è vera rimane quella del suo invecchiamento rallentato, il che spiega perché in tutti questi anni abbia avuto l'aspetto di una bambina di 14 anni, anche se la sua età finora non è stata confermata, ma con grande probabilità ha fisicamente la stessa età di Kanan nella stagione 1. E voi cosa ne pensate? Omega sarà veramente sensibile alla forza? O il suo potere nascosto è quello di invecchiare molto più lentamente?